Dighe più sicure e funzionali, porti più efficienti e adeguati alla crescente domanda turistica. A Villa Devoto è stata presentata dal Presidente della Regione Francesco Pigliaro, dagli assessori Raffaele Pace e Edoardo Balzarini e dall'amministratore unico di Enas Giovanni Sistu la programmazione relativa a 100 milioni di euro dal patto per la Sardegna sottoscritto a luglio dell'anno scorso, 50 milioni destinati alle dighe per un piano di manutenzione straordinaria senza precedenti per strategie e investimenti e altri 50 milioni alla rete portuale, intervento atteso da decenni. Sono risorse attese da molto tempo, viviamo di acque accumulate, di acque cosiddette superficiali e proprio questo patrimonio immobiliare è importantissimo, la necessità di manutenzione cosa che non è stata fatta in questi termini praticamente mai, questo è un impulso finanziario determinante. Per le dighe della Sardegna si aprono a stagione nuova, saranno più sicure, più funzionali e più efficienti per un totale di 46 interventi programmati complessivamente. 130 milioni per sistemare le dighe, aumentare la capienza perché si fanno una serie di interventi necessari per i collaudi, quindi viene aumentata notevolmente, centinaia di milioni di metri cubi la capacità di riempimento per affrontare questo clima, per cui sappiamo che periodi di siccità sono lunghi e poi se mai arrivano le piogge tutte insieme. Per i porti un investimento di 50 milioni destinato a completamento, riqualificazione, ampliamento ed efficientamento dei porti principali della Sardegna dopo una ricognizione completa sull'intero territorio. La Sardegna deve far sviluppare notevolmente il turismo nautico, pensate al Sulcis per il quale vengono stanziati oltre 20 milioni e lì se vogliamo puntare sull'economia turistica al posto delle grandi imprese, molte delle quali sono chiuse. È chiaro che il turismo, in particolare il turismo nautico, deve avere le proprie prospettive.